Buongiorno a tutti voi, ancora auguri di un buon periodo pasquale. Dando un'occhiata alla programmazione di questa settimana, Giro Mostre, in questo lunedì di Pasquetta 18 aprile, ci porterà alla sezione romana del Museo Archeologico di Palazzo Farnese a Piacenza. Mercoledì 20 aprile, Ragix ospiterà il mito vivente della pallacanestro italiana, Dino Meneghin. Concluderemo la settimana venerdì 22 aprile, Geo vagandoci, condurrà a Cividate, Camuno in provincia di Brescia, al Museo Nazionale della Valle Camonica. Il tutto a partire dalle ore 13 del giorno indicato. Così come ha indicato iscrivervi a Milanesi in Portineria e attivare la campanella per essere avvisati di ogni pubblicazione.